Allora, in diretta, non è partito o no? Non ho capito se è partito. Siamo in diretta. Buongiorno. Auguri a tutti. Problema tecnico della connessione. Abbiamo visto che abbiamo ZB fratelli qua, guarda. Non siamo riusciti a fare il countdown perché la connessione è debole. Accendiamo il stop. Tappa e accendiamo. Adesso non trova l'accendina, dove l'ha messa. Aspetta, eh? Adesso non si accende neanche. Connessione di ebola, dove prende giusto? Sì, sì. Auguri! Capitano sostenuto. Auguri! Sì, però la canzone l'abbiamo preparata. E' veramente. No, metto, aspetta, 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 aspetta. Aspetta un attimo. No, metto come al solito. Dai, metto, metto, e io preparo. Ehm... 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 Ma adesso non andò. Ehm... Ehm... Vedete come si vede? Brasi Brasi Buon 2017 Torno indietro io Aspetta Riparte Abbrasi Ammbrasi Brasi Brasi Ammbrasi vediamo la telecamera adesso basta la metterà il sono visti si sono visti solo che c'era sotto la tettoia si avvicinano tutti i fuochi fuori vediamo che se non c'è un accidente vediamo perdono girate le camera appena gira perché non non collabora sto telefono eh ce l'abbiamo fatta non è neanche si vede sta più basso non è più caldo vedersi c'era qualcuno che partiva ancora la buttesina buon 2017 a tutti eh beccato beccato? si beccato pronto adesso a stampamento della bottiglia beh fa un attimo perché bisogna schiacciare due volte perché non collabora tanto ecco anche che parte via il tutto assieme dai auguri hai portato un cazzo qua no beh l'erade è morto tutti morti eh stanno festeggiando tutti qua per me intanto vedranno sì buon 2017 a tutti che sia lavoro felicità e anche un po' di denaro auguri non costa mai eh dopo quando che aveva partito con l'edio rovescia c'era problemi noi siamo come due fratelli e così torno ad essere Oscar fratelli visto Oscar auguri anche a voi figli Eleonora Gianluca Paolo lo sapevano al nipotino sì ma si collegheranno loro radici e beh guarderanno dopo e a tutti gli amici che che ci conoscono auguri allora adesso facciamo un piccolo aspetta devo fare una roba perché non collaboro sui telefono dell'ostia no no prima che collaboravo non collaborava non collaborava allora che colore facciamo punk no auguri stella vintage in bianco e nero facciamo auguri giallo auguri auguri così rosso così pop auguri pop pal auguri siamo senza filtri stiamo senza filtri ma filtriamo noi solo la panetta stiamo via filtri la è 200 aspetta sono anche un pirla aspetta perché non collabora ciao aspettare di nuovo ah ma la sopra mi ha andato vedi qui che adesso lo fa ancora sta sparando la adesso lo sparo vediamo se lo sparo vediamo se lo sparo vediamo sta preparando il missilone adesso si allontana perché è acceso è preso mi sa eh ah quello la è preso? si ho preso fuochi artificiali di quelli auguri 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 tutte le le lanterne le lanterne cinesi ma ne lanciava anche tu sorella ah qua ho scritto 2017 poi la cancelliamo tiriamo via il missilone guarda allora le lanterne le riprendi? si questo che bello eh preso? si preso lasciamo quello in diretta? si bene sono un po' di allarmi che suonano eccolo lì altro missile si però se stiamo qui fuori star così non è al massimo eh ci vedono accidenti ne parte un altro eh è la conoscenza pronto? aspetta eh arrivo al vicino della democra della democra connessione debole si prende tutto connessione debole vediamo velo fettoso vediamo velo fettoso meno fette mazza che brutta faccia che ho fatto che buco c'è 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 mi sa il cavallo che tu sono nero eh ciao il cavallo là sarà ciò che ha agitato ma se sono un po' coltato sento qualcosa ma non so dov'è si basta dai ma lui ha fatto un altro dai presi si presi presi sento rumori di lontananza siamo quasi pronti adesso si allontana tra poco parte vediamo quello di là intanto parte un altro tra poco partirà un altro missilazzo fatto partire sta accendendo ah si sta accendendo c'è ancora nessuno ma vuoi di buon anche te davide questo si è quello di prato a prato con furora mazza che che flashata agli occhi si basta flashata c'è una cosa che stiamo qua mi metto il coso là che belli che belli qua non hanno evitato i botti ci sento la tappapapap eh si eh si auguri a tutti facciamo zoom come lo fanno a parte che l'altra volta è nato in defiance no sono venuti si 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 sembrano stelle poterla ci si può pretendere niente là tutto finito a parte a parte un altro a parte un altro odolo di produttore eh questo è veramente diverso che è successo è partito un disegnino può fare anche quelle cose lì cancella ci scrivo ciao ah aspetta che belli questi spettacolari per scrivere in russo si puoi scrivere si a eh si va bene più o meno ecco tiriamo via si spettacolo finita strada con la ballina ah auguri beh adesso sarà quasi pronto per rientrare il magazzino dovrebbe penso che adesso sia quasi pronto per rientrare la riabilitazione penso vada bene no ah coso ci ha fatto gli auguri si auguri anche a voi a tutti speriamo un buon 2017 e di ci ha la di buona eh siamo pronti per la prossima per il prossimo cetriolo votazioni sino quello che è prossima manovra altre tasse e quant'altro già ci saranno aumenti ha detto che aumenterà auguri auguri i poveri e gli operai e i pensionati ciao aspetta spera che va prossimo stiamo quando 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 prenderlo bene bello bello Filtro acido, verde acido, funk country. Molto interessante questi filtri. Molto interessante io ti faccio vedere il cacchio e me ne frega. Direttamente Fabio Rovazzi. Fatto gli auguri tuoi in diretta? Auguri signor Domenico e auguri signora Alba. Lo vedranno. Un 2017 felice anche per voi. Qualcuno lo guarderà. Il tuo fratello sarà in diretta o tuoi Fabio se sei in diretta magari ci vedi. Basta? C'è ancora qualcosa che non è andato di là. Non so, non parte tra pochi secondi. Possiamo tenereci soddisfatti delle bombe. Ah buon anno da Dazzini, buon anno anche a te. Buon anno anche a te e alla tua famiglia. Speriamo un 2017. Ah forse ne ha messo su suono. Allora lì che belli. Allora lì. Bello. Basta. L'ultimo. Vediamo. Sto qui attacca ancora. Sono l'ultimo dei belli. Cosa ci posso fare? Eh sì. La cantava Ciccio Franco. Franco Franchi. L'ultimo dei belli. Se hai ancora qualche mese da sopportare poi... Con i suoi azmazz. Michele dove sei? Sei il nostro fan e non ti ha sentito ancora. Eh ciao chissà sarà... Sì già. Eh ciao sarà chissà dove. Ma facendo i... I cosi mentali. I viaggi mentali sì. Sì, che cazzo sarà. Michele dai. Che belli. È stato di catalessi. Ma non ne hanno lanciati ma sai quanto? Avevano speso di soldi questi qui. Ciao. Guarda quanto denaro. Quanto denaro. Sprecchi. Sprecato. Nel Napoli ci saranno... Alla via. Ma... Ci saranno feriti, morti... E via. Sentiremo domani i vari feriti, morti per le fucilate. Ah sì. Sì va bene ai tanto. Ritorniamo alla casuppola. Tanti auguri di buon anno. Che sia un anno pieno di gioia. Baci baci. Baci baci e buonanotte. Ritorniamo a noi. Felice anno. Video. Sì direi di vedere qualche bel telefilm. Sì. Esorcista. Un bel esorcista. Dov'è? Esorcista. Allora. Torniamo un attimino avanti. Siamo arrivati a... La puttana. No, non è ancora al momento. Ce la possiamo. Aspetta, sono andato troppo avanti. Felice anno anche te. Talla subito fuori. È un suo diritto stare qui. Guardate. Guardate cosa stiamo guardando. Ecco la gloria. Esorcista. E' l'esorcista. E' proprio l'ideale iniziare l'anno. Avete visto quant'è brutta? Indemoniata. Guardala. Rega, la piccola rega. Che sì. Io so che puoi sentire. So che sei lì dentro. Allora il mio devo stare fuori. Mi dispiace. Non potete andare. Per favore, fermatevi. Oh mio Dio. Chi sei? Devi fare uscire tutti subito. Sì, è proprio pauroso. Bene, ciao ciao. Ciao ciao. Ancora qualche minuto. Qualche seconda e poi. Oh Dio. Sei qui per portarmi a casa? Sì. Appena starei meglio ti riportiamo a casa. Sei un incapace al volante. Cosa? Allozzare. Per poco non mi mettevi sotto per guardare le tette della tua puntata. E' l'unica che ha perso a un bricciolo di parvento e lei ha eliminato questo rispare dei tuoi cugli. E' stata lesbica. Ah, lei è lì. Cato qua. Cà, da parte del club. Ciao.